Io penso che quest'anno il Giro del Trentino sia il più bello da sempre, ma i motivi sono molto semplici. È cresciuto di livello di categoria, questo grazie alla Federazione Internazionale che ha capito gli sforzi degli organizzatori, corsa sempre ben organizzata e in questo modo c'è la possibilità di avere lotto di concorrenti ancora superiori agli altri anni, quindi diventa il livello della corsa sicuramente superiore agli altri anni e un percorso direi molto impegnativo che in vista del Giro d'Italia è un bel percorso. L'arrivo qui a Fai due volte questa salita è veramente un finale molto duro, poi l'arrivo di Campiglio ancora in salita, direi che vincerà un corridore che può sicuramente far bene al Giro. Il Giro del Trentino è una corsa che ha avuto come tutte la propria storia, mano a mano che siamo venuti avanti è cresciuta, adesso è passata anche di categoria e comunque quest'anno c'è una bella partecipazione di corridori nonostante ci siano le classiche all'estero perché non bisogna dimenticare che c'è la freccia a valore, c'è stata ieri, la Liegi-Baston-Liegi ci sarà domenica, ma comunque c'è una bella partecipazione di corridori e credo che anche Vauclair che ha vinto a Bezzecca e anche il vincitore finale saranno certamente corridori importanti. Grazie a tutti!